Musica Processo The Hand, il PM del Bene chiede pene severe per tutti gli imputati a conferma dell'accusa di associazione mafiosa. L'esclusione di Partinico e Dapesi in zona franco-urbana ha tutti i canoni di una bocciatura politica di crocetta al sindaco Lobiundo ma la vera penalizzazione è per le attività produttive del paese. Rifondazione comunista chiede le dimissioni dell'assessore Pantaleo. Anci a Roma per protestare contro la IUC, nuova tassa imposta dal governo centrale. Il sindaco Di Carini chiede l'adesione ai suoi colleghi del territorio. Musica Buonasera, bentrovati a Studio TV7, oggi il 28 gennaio. Prima di parlare del processo The Hand, una notizia che vive dalla regione, c'è il nostro governatore Crocetta che sta cercando soldi e a Roma dopo la bocciatura dalla sua manovra finanziaria. Ha detto che ci sono a rischio 26 mila posti di lavoro, non hanno più soldi per fare nulla, allora è andato a Roma, domani si incontrerà con Alfano, Saccomanni e Del Rio per cercare di soluzione a questo problema economico. Loro hanno preparato una finanziaria che il commissario è stato abbocciato, quindi evidentemente pensate quanta intelligenza e bravura hanno messo nel redar la finanziaria. Il commissario è stato adesso detto di no. Cosa chiederà Crocetta? Vorrà un intervento legislativo per ratizzare il buco in 15 anni. Un buco che sostiene giustamente non ha creato lui, ma insomma lui probabilmente non ne ha tenuto conto. È una vicenda complicata, lunga, che ci auguriamo si risolva perché 26 mila persone sono a rischio secondo il governatore, che naturalmente adesso falleva sul fenomeno sociale, sui lavoratori che non possono andare avanti e che potrebbero essere licenziati. È chiaro che ci sarebbe da discuterne ampiamente. Noi proveremo a farlo nella trasmissione che stiamo preparando, che inizierà dal mese di febbraio, una trasmissione di approfondimento dei temi dell'ETG. Adesso parliamo di queste richieste del PM De Bene per quanto riguarda il processo De Hende che vede coinvolti pezzi della mafia di Partinico. Il procuratore di Palermo, Francesco Del Bene, ha chiesto le condanne per una serie di presunti esponenti della mafia di Partinico, finiti in carcere nell'ambito dell'operazione De Hende del novembre del 2010. Il provvedimento dopo un lungo dibattimento che si è svolto davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo. Pene severe quelle che il PM chiede al collegio preseduto da Vincenzina Massa di infliggere ad otto imputati. Prima fra tutte quella a 18 anni di reclusione per Alessandro Arcabascio, che risponde di 416 bis e di diverse estorsioni. Il magistrato ha poi chiesto la condanna a 15 anni per Francesco Paolo Di Giuseppe, accusato solo di associazione mafiosa. 14 anni per Gianfranco Brolo, associazione mafiosa e danneggiamenti. 12 anni per Lorenzo Lupo, associazione mafiosa. 9 anni per Calmero Culcasi, con la riqualificazione del reato in concorso esterno in associazione mafiosa. 15 anni per Salvatore Cataldo, estorsione aggravata. 12 anni per Girolamo Guzzo, associazione mafiosa. Il PM ha contestualmente chiesto anche due assoluzioni per Salvatore Lamberti e Antonino Luvito, entrambi accusati di associazione mafiosa. Il processo è stato rinviato al 30 gennaio, quando toccherà alle parti civili e ad alcuni dei difensori degli imputati. La sentenza non dovrebbe arrivare prima della fine del mese di marzo. L'operazione Dende aveva permesso di azzerare, secondo gli investigatori, il mandamento mafioso di Partinico, importante punto di snodo per i contatti tra i clan di Palermo e Trapani. Intanto a proposito di sentenze, Totò Rina è stato assolto anche in appello dall'accusa di aver commissionato l'omicidio di Mauro De Mauro, il giornalista che scriveva per il giornale L'Ora, era accusato appunto dalla mafia corleonese, Totò Rina, ma è stato assolto anche in appello. Adesso spostiamoci a Partinico, dove credo tratteremo per diversi giorni, la zona franca urbana. Ieri vi abbiamo già mostrato le interviste, quelle realizzate ad ottobre con l'assessore Banchieri della regione Sicilia, che confermava la presenza di Partinico tra i 17 paesi della zona franca urbana. Oggi ci torniamo perché abbiamo fatto una cronostoria di quella che è stata la zona franca urbana a Partinico, da quando è iniziata alla giornata di ieri, quando è diventata più che ufficiale l'esclusione da questa zona molto importante per lo sviluppo dell'economia. Io vorrei puntualizzare subito che abbiamo cercato naturalmente il sindaco di Partinico, non siamo riusciti a trovarlo, abbiamo pure parlato con uno dei suoi assessori che non è a notizia. Abbiamo trovato l'ex assessore Vito D'Amico, attuale consigliere, che è stato quello che ha dato il via all'Itere per questa zona franca urbana. Ascoltiamo il servizio e la sua intervista. La vicenda della zona franca urbana inizia a Partinico il 21 luglio del 2008, quando Vito D'Amico, allora assessore alle attività produttive, viene a conoscenza insieme al suo ufficio di questa opportunità per i comuni siciliani. La scadenza per la presentazione della richiesta di ammissibilità era fissata per il 5 agosto. Gli uffici la presentano in tempo utile, malgrado i pochi giorni a disposizione, ma sbagliano a delimitare il perimetro di pertinenza della zona. Avvisati dalla Regione rivedono il perimetro con una delimitazione meno vasta e ripresentano la domanda corretta il 6 agosto, il giorno successivo a quello della scadenza prefissata. Questo comunque non pregiudica l'ammissibilità, tanto che nei tabulati della Regione il nome di Partinico fa parte dei 17 comuni che rientrano nella zona franca urbana. Quindi dal punto di vista tecnico non ci sono stati errori e la corretta formulazione è stata tra l'altro confermata anche dal Presidente Crocetta lo scorso mese di ottobre dopo quattro anni tramite il suo assessore Linda Vancheri. La volontà politica che era chiara sin dall'inizio, perché il Presidente Crocetta sin dal suo insediamento ha parlato di zona franca urbana a Partinico, anche perché ci ha creduto, ci credeva già da prima, ha condivato a crederci e mi ha appunto delegata per portare avanti tutta quella che era la pratica tecnica, l'istruttore da seguire per risolvere questo problema. L'abbiamo fatto insieme al Ministero, siamo riusciti finalmente a conoscere, cioè siamo arrivati alla fine, abbiamo adesso ottenuto l'insedimento della zona franca urbana nella gradatoria con la circolare che uscirà ad ottobre, oltre alle 17 zone franca urbane già conosciute, note, ci sarà anche Partinico. Considerato che malgrado fosse tutto a posto il Comune di Partinico non è rientrato tra quelli ammessi alla zona franca urbana e che l'ammissibilità dipende dalla regione è un segno tangibile che si tratta soltanto di volontà politica. È molto strano che il Presidente Crocetta, vicino politicamente al Sindaco di Partinico, che lo ha pure eseguito nel Partito Democratico, abbia volutamente escluso un paese diretto da un suo uomo dalla zona franca urbana. Stessa perplessità ha espresso ai nostri microfoni il consigliere Vito D'Amico che nel 2008 ha iniziato l'iter in qualità di assessore. Io non so quello che è successo, io come lei ha visto dalle carte Partinico, nella prima fase era fra quelle ammessibile, alcuni comuni che non avevano allora neanche presentato richiesta oggi sono dentro. La mia rabbia è quella che a prescindere della presa in giro, devo dire, arrivata a questo punto da parte sia del Presidente della Regione che dall'assessore Linda Vanchieri perché mi aveva aspettato, io non ho fatto interviste ieri perché mi aveva aspettato che qualche notizia da parte dell'assessore tramite stampa di dire che c'era stato un equivoco ma quando già il 14 gennaio è uscito il decreto, perché quel decreto porta alla data il 14 gennaio, oggi ne abbiamo sempre a 28 e nessuno dà notizie che c'è stato un equivoco e perché Partinico è fuori, si vede che c'è stata una volontà politica un po' diversa. L'assessore allora aveva dato anche come recuperava le somme. Il finanziamento complessivo per tutti i comuni era circa 190 milioni di euro. L'assessore aveva preso l'impegno che razionalizzava quelle somme in cui andava a recuperare i 5 milioni che servivano per Partinico. Questo non è stato fatto. Le devo dire che io ero stato additato inizialmente che la responsabilità ricadeva su di me perché non avevo seguito bene questa vicenda. Devo dire che la vicenda era stata allora eseguita bene non solo da me ma anche da parte degli uffici che hanno fatto un ottimo lavoro. Devo dire che oggi da parte di chi l'avebbe dovuto seguire, possibilmente c'è stata veramente poca attenzione, devo dire. Da parte, non so, dall'assessore stesso, da parte da qualche deputato che aveva preso impegno che la seguiva bene. A questo punto io devo dire una cosa, che la mia rabbia da imprenditore, non solo come consigliere comunale e come fautore di questa avventura che abbiamo presentato questa richiesta perché Partinico è stato l'unico comune del convenzionario che l'abbia presentato, invito, visto che anche la scarsa attenzione da parte di tutto il consiglio comunale che è stato fortemente critico su di me e oggi non ho visto nessun gruppo politico prendere una posizione per salvaguardare e recuperare questo progetto che si tratta di un futuro delle nostre imprese e della nostra realtà in un momento così difficoltoso. Viene meno e non c'è, nessuno ha detto niente e devo dire anche da parte dei sindacati non è stata a oggi presa una posizione forte, io invito a tutte le imprese e la città di Partinico a reagire perché parliamo del nostro futuro, non possiamo perdere questa opportunità e poi assistere in prima pagina il giornale Sicilia, Crocetta che ci dice che si è a rischio 26.000 posti di lavoro ma la regione, le ente pubbliche perderanno tutti i posti di lavoro perché se non riparano questa situazione che si è venuta a creare e rilanciare l'economia che passa attraverso le imprese e l'agricoltura, l'ente pubblico non ha futuro e poi assistiamo il presidente dell'Inpes, uno che ha una retribuzione di milioni di euro e poi vicepresidente in altre 20 strutture, vicepresidente a Equitalia che truffa anche lui, questa gente va buttata fuori perché noi siamo stanchi come imprenditore di pagare tasse così esose, contributi così esose e poi andare in pensione per 700-800 euro mentre questa gente truffa i cittadini italiani, non solo dei pari cittadini italiani allora io dico a chi di competenza questa gente va buttata fuori e viene vietato l'accesso agli uffici pubblici vietato completamente e se hanno come fanno con i mafiosi che vengono confiscati bene questi sono peggio dei mafiosi per me, viene confiscato quello che si hanno realizzato con i sudori dei cittadini Beh certo che il consigliere D'Amico non sarà un economista ma credo che abbia individuato in maniera semplice come possiamo fare tutti noi cittadini quello che potrebbe essere in parte una soluzione a tanti problemi economici d'Italia ecco, confiscare i beni accumulati indebitamente da questa gente che ha posti di sotto governo e guadagnano milioni di euro l'anno per far cosa? quello che fanno tutti i normali impiegati con qualche responsabilità in più ma considerati risultati evidentemente fanno poco e allora l'idea semplice, genuina avuta dall'assessore D'Amico potrebbe passare anche dalla testa di coloro i quali ci riempono la sera continuamente insomma i nostri cervelli di leggi elettorali e di accordi allora basterebbe dire, guardate, probabilmente abbiamo esagerato a dare a questi posti di sotto governo 700-800 mila euro di stipendi annui e allora cosa facciamo? vediamo i loro patrimoni accumulati li confischiamo, li lasciamo giusto per vivere abbondantemente e mettiamo da parte e proviamo a risolvere, a tamponare qualche problema degli italiani che insomma che soffrono, che non arrivano a fine mese e che rischiano di avere le case sequestrate perché non possono pagare Equitalia, il cui Presidente presenta una dichiarazione di redditi di 778 mila euro l'anno e che per l'incarico di Presidente di Equitalia guadagna 330 mila euro l'anno Equitalia che poi fa sequestrare gli appartamenti dove vivono i nostri figli quindi io sono pienamente d'accordo con l'assessore D'Amico un discorso semplice, un conto genuino che noi facciamo purtroppo non fanno coloro i quali cercano poi la soluzione mettendo altre tasse come la IUC di cui parlerà tra poco al microfono di Salvo Cataldo il sindaco di Carini ma restiamo intanto sul problema zona franca urbana di Partinico e io ripeto ho provato a contattare il sindaco evidentemente sta cercando la soluzione e quindi non ci ha richiamato certamente sono convinto che il sindaco e la sua squadra di governo al più presto faranno una conferenza stampa per spiegare alla città cosa è successo qual è l'equivoco che priva Partinico della zona franca urbana io vi ricordo per farla breve che nella zona franca urbana le attività che ricadono all'interno del perimetro possono usufruire di sgravi fiscali fino a 200 mila euro in 5 anni o chi ha meno tasse da pagare anche in più anni fino a 15 anni significa avere lo sgravio fiscale totale sulla messa in regola degli operai o dei dipendenti significa pagare meno tasse e in questo momento credo che sarebbe fondamentale per far risorgere un'economia che insomma vediamo stenta a sopravvivere quindi è un problema molto importante sono convinto che il sindaco di Partinico e la sua squadra di governo non appena vanno risolto il problema o se comunque non lo vanno risolto spiegheranno alla città pubblicamente perché è successo e cosa si deve fare quindi restiamo in attesa di comunicazioni da parte del sindaco che lasciamo naturalmente tranquillo perché sta sicuramente provando a cercare la soluzione insieme al suo presidente Crocetta ma vediamo un po' invece la nota che ci ha inviato Rifondazione Comunista sempre sul tema zona franca urbana il comunicato stampa sul fallimento delle zone franche urbane firmato dall'assessore Pantaleo e dei consiglieri comunali prussiano De Luca, Tranchina eletti nella lista del megafono e che ora minacciano le dimissioni dal loro movimento è un vero capolavoro di ipocrisia lo scrive in una nota il partito della Rifondazione Comunista sezione Peppino Impastato ricordiamo bene le contumelie nei confronti del nostro partito si legge nella nota prima delle elezioni e nei confronti del gruppo consigliare Cambiamo Partinico dopo quando denunciavamo l'imbroglio delle zone franche urbane sostenendo che la nostra città era stata esclusa dalla possibilità di essere inserita per riceverne vantaggi come comunità produttiva e ricordiamo prosegue la nota a firma del segretario Gallo e del presidente Costanzo le pesanti accuse di responsabilità a noi rivolte dal presidente del consorzio COSAR e dal movimento politico di cui è responsabile che ci definiva i soliti comunisti che non vogliono lo sviluppo economico della nostra città e che si oppongono a tutto sol perché denunciavamo una indiscutibile verità il presidente della regione Crocetta l'assessore Linda Vancheri mentivano alla nostra città per ragioni di piccoli interessi elettoralistici a sostegno del sindaco Lobbiundo all'assessore Pantaleo scrivono ancora nella nota ai comunisti che solo ora prende le distanze dal suo referente politico chiediamo se vuole essere credibile di rassegnare le dimissioni dal suo incarico amministrativo avendo fallito in un suo decisivo compito che è la difesa del nostro comparto produttivo mentre al presidente del COSAR diciamo che il suo tardivo appello oggi all'unità delle forze politiche della città avrebbe potuto avere avuto credibilità se avesse avuto attenzione e rispetto per quel che noi con coraggio e determinazione da soli denunciavamo l'ifondazione comunista conclude la nota continuerà la sua battaglia per le zone franche urbane sostenendo le iniziative del gruppo consigliare di Cambiamo Partinico e dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle e con quanti imprenditori liberi e forze politiche e democratiche vogliono continuare una battaglia svincolati da interessi di parte e da opportunistici condizionamenti La nota di rifondazione comunista francamente è inappellabile io mi auguro che si sbaglino perché pensate rifletteteci per un attimo se davvero così fosse cioè se Crocetta avesse mandato realmente l'assessore Linda Vanchieri qui a Partinico in un incontro pubblico quindi rivolgendosi alla città non ai politici ma alla città nel pubblico consesso del Consiglio Comunale e poi alle telecamere di tutte le tv se davvero la Linda Vanchieri ci avesse raccontato una storia del tutto falsa inventata cioè di concerto con il sindaco e l'amministrazione di Partinico sarebbe davvero grave chiaramente molto grave perché sarebbe stata una palestra presa in giro per tutta la comunità non credo assolutamente che i fatti si siano svolti così io credo che alla base ci sia un equivoco perché se non fosse un equivoco sarebbe una grave responsabilità altro che dimissioni di un assessore ma dimissioni dovrebbero essere in massa ma sono certo voglio augurarmi che comunque alla base c'è un equivoco che noi comunque seguiremo giornalmente nella massima serenità cambiamo argomento parliamo di operazioni di carabinieri che hanno arrestato cinque persone hanno fermato queste cinque persone tra questi anche un giovane pensate che picchiava sua mamma con un bastone detenzione illegale di armi maltrattamenti in famiglia resistenza pubblico ufficiale con queste motivazioni i carabinieri della compagnia di Monreale nei giorni scorsi hanno tratto in arresto cinque persone tra la cittadina Normanne e San Giuseppe Iato un fratello e una sorella sono stati tratti in arresto per illegale detenzione di armi comuni da sparo a Monreale a San Giuseppe Iato i militari della stazione locale hanno tratto in arresto esse 21 anni con un procedimento penale già in corso in materia di stupefacenti perché responsabili di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia in particolare i militari intervenuti lo trovavano in possesso di un bastone utilizzato per percuotere la madre rinvenuta con addosso ancora i segni della violenta colluttazione tratto in arresto su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane veniva condotto a Lucerdone di Palermo per le successive fasi processuali analogo intervento si è verificato a Monreale dove i carabinieri della stazione hanno tratto in arresto M.A. pure lui di 21 anni il giovane in particolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che ha utilizzato per minacciare il fratello sempre a Monreale poi è stato tratto in arresto dalla locale stazione Matteo Mannino 33 anni con diversi precedenti alle spalle sottoposto al regime dei domiciliari perché quando i militari sono arrivati davanti alla sua abitazione per controllare che fosse effettivamente solo li avrebbe insultati impedendogli l'accesso all'abitazione per quanto riguarda la cronaca ancora sangue a Ballarò che è uno dei quartieri storici di Palermo la poesia sta cercando di fare luce su una brutale aggressione in via del Bosco attraversa di via Macheda pieno centro storico un vero e proprio uno contro tutti da primi accertamenti sembrerebbe che partecipare alla scazzottata siano stati una dozzina di extracomunitari e davvero la peggio è stato un ragazzo nigeriano di 24 anni che stava passeggiando con un suo amico di 29 anche lui nigeriano colpito il ragazzo a colpi di bottiglia di ascia di bastoni e quindi l'ennesima lite che si verifica tra extracomunitari nel centro storico di Palermo dove insomma davanti ai pub dove tanti ragazzi ma non solo passano i loro momenti liberi ancora extracomunitari questi extracomunitari infangano le ragioni e il nome dei tantissimi extracomunitari che sono integrati nella nostra società e di cui ormai fanno parte insomma che sono davvero molto utili e che vivono in sanità questi disadattati questi che litigano giornalmente andrebbero credo di non essere tacciato di razzismo ma questi extracomunitari disadattati andrebbero assolutamente espulsi perché purtroppo la nostra legge non permette di metterli dentro in carcere e non ci sono neppure posti ma questi disadattati andrebbero espulsi per garantire anche e soprattutto gli altri i nostri confratelli extracomunitari che ormai fanno parte della nostra società ma se ne parla soltanto non si prendono mai provvedimenti arresti a Cinisi per tre giovanissimi rei di aver rubato in una casa di Cinisi non potevano passare inosservati i carabinieri li hanno intercettati mentre sfrecciavano per le vie del centro in sella ad un ciclomotore elettrico si trattava di Giacomo Munaco caninese di 21 anni e di altri due minorenni rispettivamente di 17 e 15 anni i militari della stazione di Cinisi hanno intuito immediatamente che si trattava dei tre che poco prima erano stati visti fuggire incontrata a Graffagnino dopo aver commesso un furto nell'abitazione di un Cinisenze i tre ragazzi approfittando della guieta della domenica pomeriggio si erano introdotti in un'abitazione dopo aver scavalcato la recensione esterna e sfondato a calci la porta d'ingresso il tutto era durato pochi minuti dopo aver messo a soccuadro l'intero appartamento senza trovare nulla di quanto sperato si erano accontentati di un misero bottino di 25 euro probabilmente a mettere in fuga i ragazzi erano state le urla di alcuni vicini e forse proprio perché presi dalla sprovvista hanno tentato la fuga a dir poco grottesca e sono stati bloccati dai carabinieri per il maggiorenne sono scattate subito le manette ed è stato già condannato ad otto mesi di reclusione con pena sospesa i due minorenni invece sono stati deferiti all'autorità giudiziaria dei minori e risponderanno insieme al complice di furto in abitazione in concorso Palermo aumentano i biglietti degli autobus ma in compenso diminuiscono i costi degli abbonamenti il prezzo al pubblico del biglietto Amat aumenta di 10 centesimi passando da 1,30 a 1,40 la durata della validità però resta invariata sempre di 90 minuti il Comune ha deciso di adeguarsi al decreto regionale che un paio di mesi fa ha ritoccato al rialzo le tariffe minime del trasporto pubblico urbano nelle grandi città l'assessore alla mobilità Tullio Giuffre ha puntualizzato che l'aumento del costo del biglietto è nei fatti e nella sostanza un adeguamento tariffario dovuto alle disposizioni normative in materia della Regione l'amministrazione ha dovuto prendere atto di questo orientamento così come dell'ulteriore taglio dal fondo trasporti regionale inserito nell'ultima finanziaria di contro però il consigli di amministrazione dell'amat ha appena approvato una proposta per ridurre il costo degli abbonamenti proposta che deve avere comunque l'approvazione del Consiglio Comunale l'abbonamento mensile passa da 48 euro a 32 il semestrale scende da 288 a 165 e l'annuale da 459 a 300 euro Cantieri di servizio c'è un'opportunità per i comuni di riaprire bandi quindi se lo vogliono i comuni possono dare la possibilità ad altri di presentare la domanda di ammissione grazie ad una deroga data dalla regione la proposta di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai cantieri di servizio è finalizzata ad aiutare le persone e le famiglie con elevato disagio sociale arriva dopo l'esposizione da parte dei cittadini interessati di numerosi dubbi riguardanti alcuni punti della direttiva in particolare quello relativo ai registri di ammissibilità per ciò che riguarda il possesso dei patrimoni immobiliari secondo la direttiva che è in possesso di un patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato azioni obbligazioni quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione se è posseduta a titolo di proprietà non può accedere alla richiesta di fatto comportando l'esclusione di molte famiglie che vivono in condizioni di assoluta criticità dalla gradatoria di accesso con i chiaramenti forniti dall'assessorato per l'abitazione principale si intende che possano rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare ovvero più particelle catastali dell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale costituita però da un unico immobile sono rilevanti ai fini dell'ammissione in graduatoria il possesso di quote indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreno purché il valore catastale sommato al valore dell'abitazione principale se è posseduta non superi la soglia fissata dai al comune adesso dipende dalla volontà dei singoli comuni di aprire il bando per consentire ai beneficiari di poter presentare la domanda il nuovo presidente nazionale del lanci sicilia scusate il presidente del lanci sicilia non nazionale il sindaco di palermo ha vinto per appena due voti battendo sul filo di lana paola menta che ha retto lanci dopo le dimissioni dell'alcamese Giacomo Scala il lanci domani guiderà questa protesta nei confronti della nuova tassa la IUC che è prevista appunto nella capitale il sindaco di Carini Giuseppe Agrusa ha spiegato al microfono di Salvo Cataldo e le motivazioni che l'hanno spinto ad aderire a questa manifestazione contro questa nuova tassa promossa dal governo nazionale e quindi alla quale non sono d'accordo i sindaci di tutta Italia ascoltiamo Agrusa domani a Roma la manifestazione dei sindaci contro la IUC a rappresentare la città di Carini ci sarà il sindaco Giuseppe Agrusa che ci spiega le motivazioni che lo hanno spinto ad aderire alla manifestazione io penso che è opportuno che la città di Carini e i sindaci colleghi di tutta la Sicilia partecipino a questa assemblea del 29 gennaio a Roma per protestare contro il governo in riferimento ai nuovi tributi approvati con la legge di stabilità per il 2014 in questo momento c'è in determinate città del nostro comprensorio delle proteste attivate da parte dei cittadini che stanno consegnando le cartelle soprattutto sui rifiuti per quanto riguarda la TARES per quest'anno il comune di Carini siamo riusciti a proporre di nuovo la TARES ma con la legge di stabilità e le nuove norme che disciplinano la materia dei tributi purtroppo ritorneremo alla TARES che questa volta nel pacchetto IUC questa tassa sui rifiuti si chiamerà TARES la IUC l'imposta unica comunale comprenderà l'IMU per la casa la TASI per i servizi indivisibili e la TARI sui rifiuti ma vediamo quali aumenti comporterà l'introduzione della nuova TARI un ortofrutto una pescheria un negozio di fiori di 100 metri quadri di superficie media avrà un aumento pari al 650% con la vecchia TARES avrebbe pagato 401 euro con la nuova TARI circa 3.000 un ristorante una pizzeria una trattoria di 200 metri quadri pagherà 4.600 euro circa il 480% di aumento con la vecchia TARES avrebbe pagato 802 euro un bar un caffè o una pasticceria di circa 100 metri quadri avrà oltre il 300% di aumento passando da 400 euro a 1.600 euro circa è opportuno cominciare a spiegare e far capire ai cittadini che questa purtroppo non è una volontà del sindaco o dei sindaci ma è una volontà della legge fatta dal governo fatta dal Parlamento io oggi mi sto mobilitando perché è giusto difendere il diritto dei cittadini e quindi protestare andare a Roma a protestare affinché il governo si ravveda su questi provvedimenti che stanno portando purtroppo alla povertà dei nostri concittadini se non cambia nulla sarò io nella qualità a rappresentare ad organizzare un comitato di protesta e questa volta non consegnare le cartelle ai comuni ma consegnare le cartelle al prefetto allo Stato perché sono loro che attivano questi procedimenti normativi e noi da sindaci purtroppo dobbiamo assolutamente eseguire perché noi siamo degli esecutori dello Stato ma le leggi purtroppo li fanno loro ma avete sentito quanto pagheranno queste attività commerciali in più perché lo Stato ha bisogno di fare cassa però è lo stesso Stato che permette poi a gente come Mastro Pasqua presidente dell'Inpes di truffare su gente che guadagna stipendi milionari allora loro lasciano gli stipendi milionari anziché retribuirli con 5 mila euro al mese come probabilmente meriterebbero insomma abituati a quelle cifre almeno 5 mila dovrebbero essere dati e poi aumentano le tasse in questo modo per i semplici cittadini è davvero vergognoso assolutamente solidale col sindaco di Carini che farebbe bene a partire lancia in resta per una protesta seria nei confronti di questo Stato che sta davvero affamando la popolazione cioè aumenta le tasse in questo modo e poi mantiene questi posti di sotto governo milionari per gente che truffa davvero vergognoso una buona notizia arriva per i lavoratori di Almaviva che domani si preparano alla protesta per cercare una sede unica a Palermo Almaviva è quell'azienda che raggruppa i call center a Palermo più di 4.500 dipendenti altre 1.500 ce li ha a Catania bene c'era il rischio di chiudere i call center a Palermo invece l'azienda a quanto pare ha confermato l'idea di voler addirittura stabilire la sede legale a Palermo quindi non c'è nessun problema per i lavoratori che comunque si sta radoperando di concerto con l'azienda per trovare una sede unica ed accorpare le due strutture attualmente presenti quindi in questo caso siamo contenti per i lavoratori di Almaviva che comunque avranno confermato il loro posto di lavoro anzi potrebbero averlo rafforzato adesso facciamo un passo indietro torniamo alla giornata di ieri durante la quale si è ricordato lo Shoah per quei momenti terribili per i quali ogni commento sarebbe superfluo le nostre telecamere hanno puntato gli obiettivi su una delle tante manifestazioni che si sono svolte nel territorio al liceo scientifico di Partiligo dove c'è stata la proiezione di un film davvero toccante Vento di primavera è un film francese del 2010 basato su una storia vera di un ragazzo ebreo durante l'arretata al velodromo d'inverno che si svolse a Parigi nel luglio del 1942 ci fu un arresto di massa degli ebrei effettuato dalla polizia francese complice dei nazisti la visione di questo film è far riflettere sulle atrocità avvenute negli anni 40 ed ha fatto commuovere anche tutti i presenti nell'aula magna del liceo Savarino in occasione della giornata dedicata allo Shoah la proiezione del film è stata preceduta da un accorato intervento del vicepresidente Vito Costa prendendo spunto proprio dalle riflessioni di Anna Arendt abbiamo cercato di capire in che senso la filosofa parla della banalità del male a proposito della Shoah e quello che metteva in risalto la Arendt è che nel personaggio Eichmann che è uno dei carnefici di Hitler non c'è nulla di significativo tutto è ordinario tutto è mediocrità l'unica nota significativa è la mancanza di pensiero quella mancanza di pensiero che produce mostri produce appunto gli orrori di Auschwitz non è equiparata alla follia no non è equiparata alla follia proprio perché è il niente è il nulla parlare di follia a proposito della Shoah o dell'antisemitismo significerebbe in qualche modo trovare anche una giustificazione a quegli eventi dire sì vabbè è accaduto perché Hitler era un folle in realtà lo sterminio è qualcosa di assolutamente pianificato in modo razionale il razionale è soltanto l'obiettivo per cui è l'obiettivo che si propone e le ragioni per cui si fa da un punto di vista ideologico non da un punto di vista politico mette in risalto lo storico traverso l'ebreo non è il nemico della nazione tedesca tra l'altro molti degli ebrei erano perfettamente integrati nella nazione tedesca per cui non c'è un motivo economico non c'è una motivazione politica non c'è una motivazione sociale non c'è alcuna motivazione militare l'unica motivazione è di natura ideologica eliminare l'ebreo perché è ebreo e quindi deve essere eliminato al fine di potenziare la perfetta razza ariana come recepiscono oggi gli studenti questa nozione sullo Shoah dall'attenzione che hanno mostrato io credo che siano molto sensibili nei confronti di questi eventi che hanno caratterizzato accompagnato e forse a volte continuano ad accompagnare la nostra storia il nostro tempo le classi già questa mattina hanno lavorato sulla Shoah sul giorno della memoria e i singoli insegnanti hanno prodotto poesie o documentari utili per fare riflettere appunto gli allievi sulla memoria nel nome di Papa Francesco a Partinico si sta pensando all'organizzazione di un weekend della fraternità una riunione tra associazioni movimenti realtà ecclesiali ed esponenti del mondo politico per organizzare il weekend della fraternità a Partinico si è tenuta ieri sera nel salone del Rosanerlo della Chiesa Madre persone provenienti da diverse esperienze nel nome del documento di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace fraternità fondamento e via per la pace hanno deciso di iniziare un percorso comune per vivere un'esperienza che già nel suo realizzarsi diventa occasione di fraternità questa sera ci stiamo incontrando con alcune realtà parrocchiali associative ma anche diverse associazioni laiche del territorio presenti nel territorio perché stiamo tentando di organizzare una giornata una giornata unitaria della pace a Partinico l'obiettivo della giornata è quello di fare una riflessione approfondita sul tema della pace che è un tema universale che riguarda non solo i cattolici ma riguardano un po' tutti riguarda anche in prima persona diciamo tutto il nostro territorio partinicese e l'obiettivo è appunto quello di fare una riflessione sul tema della pace a partire dagli spunti che ci dà Papa Francesco con il suo messaggio con il suo messaggio dall'altro lato è quello di permettere a tutte le associazioni di fare una riflessione sera sul tema e di proporre la propria riflessione anche ad altri a tutti gli altri cittadini di Partinico questa sera è il primo incontro che facciamo per organizzare successivamente organizzeremo un altro incontro al quale sono invitati anche altre realtà di Partinico che questa sera non sono state presenti o per dimenticanza o per altri motivi che potranno partecipare agli incontri vediamo se magari possiamo mettere gli inviti su Facebook in maniera tale che tutte le altre realtà possano partecipare l'obiettivo è quello dare un messaggio e permettere al Paese di riflettere sul tema della pace a partire dalla realtà locale quindi dalla realtà sociale politica amministrativa per crescere sul tema fondamentale della pace di quest'anno che è appunto la fraternità Restiamo a Partinico perché domani la Cantina Borbonica si trasforma in un teatro di pietra Teatri di pietra una manifestazione di teatro danza e musica che ha all'attivo più di dieci anni si svolge principalmente nei teatri e negli anfiteatri romani d'Italia prevede la partecipazione di oltre 20 compagnie ed è organizzata dell'associazione Capua Antica Festival sotto la direzione del maestro Aurelio Gatti l'associazione Teatro di Pietra Onlus intende creare spazi teatrali anche laddove non ci sono e vuole portare le attività teatrali ad essere competitive e fruibili da tutti domani sera la Cantina Borbonica di Partinico ospiterà un'opera teatrale del circuito abbiamo voluto aderire con molto piacere ai circuiti di Pietra che tende a valorizzare i beni monumentali della nostra città attraverso manifestazioni attraverso spettacoli culturali il primo spettacolo volto a valorizzare appunto un nostro bene monumentale qual è quello della Cantina Borbonica si terrà domani sera alle ore 20 e 30 presso la Cantina Borbonica e verrà messa in scena l'opera teatrale Guerri in Meschino un'opera di Gesualdo Bufalino intanto puntualizziamo che l'ingresso è gratuito sì sì l'ingresso è gratuito ovviamente è gratuito e colgo l'occasione per appunto invitare la cittadinanza a partecipare maestro che opera vedremo domani sera questo vedremo un'anteprima un'anteprima assoluta il Guerrino Meschino è tratto da Gesualdo Bufalino è opera che è talmente diventata rara che è difficile anche trovarla in libreria perché il Guerrino Meschino perché fondamentalmente ci troviamo non a caso a Partinico alla Reale Borbonica e Partinico improvvisamente raccoglie sia una tradizione pupara è infatti il protagonista del Guerrino Meschino è il pupo ma soprattutto raccoglie un messaggio molto potente legato anche alle vicende alla poesia Lutto inserita dentro il Guerrino Meschino che era una poesia dedicata alla scomparsa di Falcone Borsellino e quindi il Guerrino Meschino raccoglie anche l'idea di una rivalsa di un riscatto che fondamentalmente viene chiesto viene evocato viene invocato al popolo siciliano e qui entra il discorso Teatri di Pietra Teatri di Pietra Teatri di Pietra che siano pietre antiche e nobili come quelle dei grandi teatri antichi o dei templi di Selinunte piuttosto che non quello eccellente di Agrigento o che siano pietre laiche questa sembra quasi una cattedrale può sembrare una navata di una chiesa fondamentalmente queste pietre hanno avuto una funzione fondamentale quella di essere centri di attività centri di cultura centri di una operosità questi centri sono fondamentali affinché non solo vengono rilanciati per il turista piuttosto che per il fruitore ma perché le cittadinanze hanno sempre più bisogno di trovare radici identità e non quelle tuttologhe non so a voi ma mi ha incuriosito il maestro e andrò a vedere questo spettacolo domani sera alla Cantina Borbonica alle ore 21 era l'ultimo servizio per oggi vi ringrazio per aver scelto Studio TV7 e rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci a presto